Via Libera al protocollo di intesa tra Asi e Confindustria per rilanciare lo sviluppo delle aree industriali irpine ed attrarre nuovi investimenti. Stamattina, presso la sede degli imprenditori irpini, il presidente Sabino Basso e il numero uno del consorzio dei distretti Giulio Belmonte hanno siglato ufficialmente l'intesa che dovrà costituire il punto di partenza per rifare il look delle aree produttive, favorendo l'insediamento di nuovi impianti. Sburocratizzazione delle pratiche necessarie all'assegnazione dei capannoni, implementazione del sistema infrastrutturale a modernamento degli impianti di depurazione, le linee guida del provvedimento che si candida così ai finanziamenti regionali. Tutte le autorizzazioni, dalla ASLA, quelle dei vigili del fuoco, tutto quello che serve per mettere su un'attività, anziché girare tra i vari uffici, viene tutto unito in un unico ufficio che si deve a sportellunico. Ci sono investitori importanti che hanno intenzione di venire sul nostro territorio, in particolar modo il settore dell'aerospazio, c'è un progetto molto importante, verenissimo chiaramente per poterli far sviluppare l'efficientamento delle risposte, la disponibilità dei luoghi, dei capannoni, dei suoli è fondamentale. Non possiamo immaginare che viene un imprenditore da fuori e che per avere una risposta sta sei mesi. La base del ragionamento è la riforma delle ASI, licenziata a dicembre dal Consiglio regionale. Per Giulio Belmonte, che subito dopo ha incontrato a Napoli l'assessore alle attività produttive, Fulvio Martuscello, finalmente il consorzio si riappropria della funzione di promuovere lo sviluppo del territorio. Lo snellimento della burocrazia, oltre alla banda larga, ai treni, all'alta capacità, a tutte queste belle parole, che la gente non viene perché anche per uno che deve fare un documento, avere una licenza, girare tutti gli uffici all'unanno, asfaltare una strada, mettere una luce a LED, mettere al look in questo senso le aree industriali e l'ABC a mio avviso, si guarda al futuro ma guardiamo pure al presente, se no perdiamo vodore al presente.